Era un botto forte, fortino. Un forte boato nella notte a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, dove attorno alle 3 si è consumato un furto con esplosione. Nelle mire dei malviventi la cassa continua di un supermercato che si trova lungo la strada regionale 71. L'esplosione, la cui violenza svegliato di soprassalto agli abitanti della zona, ha fatto saltare il coperchio di ghisa della cassa. Hanno messo del gas dentro, non si riesce a capire da dove siamo usciti a mettere il gas e hanno fatto esplodere la cassaforte e hanno preso l'incassi del fine settimana. Questa è la cassa che è stata fatta esplodere. La pesante copertura in ghisa è stata ritrovata al di là della carreggiata e nel suo volo ha anche sfondato la ringhiera. Fortunatamente non passava nessuno perché la strada statale, anche se era alle 4 di mattina, c'è abbastanza traffico. Nello scoppio sarebbero andate in fumo anche le banconote e ritrovate arse vicino alla cassa. I banditi per mettere a segno il colpo hanno utilizzato un'auto rubata, poi bruciata a qualche chilometro di distanza. I carabinieri stanno portando avanti le indagini. Hanno fatto dei bei danni, alla fine non hanno guardato a niente. Sempre questa notte in Val di Chiana un altro furto è stato tentato utilizzando lo stesso modus operandi, ma in questo caso ai danni di una filiale del Monte dei Paschi di Siena accesa.